Se la vita cristiana deve essere concepita e vissuta come un ritorno dell'anima a Dio, dal quale l'anima si è allontanata per il primo peccato, San Benedetto ci dice che il ritorno dell'anima al Signore è un ritorno di obbedienza, così come il primo peccato è stato fondamentalmente un atto di disobbedienza. Grazie 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 Grazie